Professoressa, ci spiega il meccanismo degli anticorpi. Il corpo umano si difende dalle infezioni mettendo in circolo appunto gli anticorpi. Perché con il Covid-19 non riescono a agire? Ma allora, i coronavirus umani, quindi i virus del raffreddore, anche loro si comportano così, cioè l'immunità che danno è un'immunità transitoria. Adesso, questo può essere legato a tantissimi fattori, però per semplificare, diciamo che in generale un'infezione lieve non porta a una grande stimolazione del sistema immunitario, mentre un'infezione importante, sintomatica, dà una stimolazione più forte. Quindi potremmo anche vedere, andando avanti, che gli asintomatici, che però ricordiamoci sono asintomatici, quindi non si sono accorti di aver avuto l'infezione, hanno un'immunità magari più lieve, ma il fatto che l'abbiano fatto in maniera sintomatica significa che non sono soggetti a rischio. E mentre le persone che hanno sviluppato una forma più importante avranno anticorpi, diciamo, di classi diverse, e quindi è possibile che abbiano anche più anticorpi neutralizzanti. Questo è tutto da vedere, per fortuna, in Italia abbiamo degli immunologi straordinari. Quindi il virus è più forte o più debole a seconda dell'ospite? Anche a seconda dell'ospite, quindi a seconda di come reagisce l'ospite. Noi non dobbiamo dimenticarci che il virus da solo, quello che dico sempre ai miei studenti, i virus non sono delle fucilate, cioè on-off, sono uno degli elementi che entrano a fare parte di un quadro che spesso dipende molto dalle condizioni dell'ospite, come con il coronavirus. Grazie, grazie, professor.